È il momento degli applausi, è il momento degli applausi, un di 15 metri, avvince la semplicissima della giocentrata e rimanica della terzionale ultima del battaglio, Mila Filippo! Via lì, ho detto la semplicissima data, la semplicissima data, la semplicissima data, la semplicissima data! Super! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!